Dopo un giorno intero a Roma c'è solo una cosa che ti viene da fare Bere un buon tè Ma i romani apprezzano un buon tè, secondo voi? Adesso vediamo Dobbiamo parlare di una cosa importante poi Quando c'è un-n all'inizio di un aggettivo È il contrario Believable è credibile Questa è incredibile Qualcuno fa qualcosa In questa scena qua c'è una ragazza che sta male Tu sei il dottore Lui è Matthew E dici questo è incredibile Qualcuno fa qualcosa Questo è il dottore che non fa niente E tu dici la vita umana Human life Perché l'aggettivo va sempre prima del soggetto in inglese Is un-predictable Ancora un Un- Allora Believable è credibile Unbelievable è incredibile Predictable è prevedibile Unpredictable non è prevedibile Ok vogliamo fare la scena? La ragazza sta giù Quindi noi dobbiamo stare su Aspetta però prima Anzi vieni venite Però prima guardiamo come l'hanno fatto loro Ah This is unbelievable Somebody do something The human life is unpredictable But you're right This is unbelievable Somebody do something Human life is unpredictable Oh Che attore Un applauso spontaneo 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 Grazie a tutti